e fa vedere la risonanza magnetica di kit è negativa ma è gravemente disidratata e mostra segni di C'è un altro po'. Non ho bisogno di me. Non sono venuta qui per arrendermi prima della figlia. Speravo di avere un partner per tutta la prova, o almeno per più della metà.